Sono ancora 553 positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta e tuttavia i casi quotidiani sono in diminuzione rispetto alle settimane che sono state in piena pandemia e ancora però sono di numeri elevati. Il dato dei positivi in tutta la provincia è di 8.730, abbastanza lontani dagli 11.000 di qualche giorno addietro e intanto il numero dei guariti aumenta sempre di più, 935 nelle ultime 24 ore. Sono 4 ancora i decessi che si registrano, 1 paziente ricoverato in animazione, 10 i ricoveri in degenza ordinaria e 6 le dimissioni. A Caltanissetta i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 151.